ciao a tutti torna dalla key master in questa sera d'estate rapid 10 più 0 nostro avversario 2 2 11 è qui la forza del nostro avversario comincia a farsi sentire a ogni modo cerchiamo di fare del nostro meglio il rating rimane comunque un numero da prendere come tale noi proviamo a giocare le mosse migliori e almeno sulle prime tre grossi dubbi non ne abbiamo magari pure sulla quarta qui mi aspetto un donna di due e arrocco e qui il piano più efficace collaudato finora rimane il contrattacco al centro mentre il bianco manovra per sfianchettare e spingere il pedone cambiare in g6 ed entrare con la donna in h7 noi premiamo al centro e man mano ci sviluppiamo pressione sul cavallo d4 qui l'idea del bianco è quello di arroccare lungo quindi una possibilità interessante è quello di spingere il pedone a fino in a4 attaccando il cavallo in b3 e guadagnando un tempo e poi spingere ulteriormente in a3 attaccando b2 questo in qualche modo dovrebbe far cambiare idea al nostro avversario sull'arrocco lungo il re al centro è sempre una soluzione pericolosa e quindi mi aspetto adesso un arrocco corto qui è da valutare sia la ripresa in g7 che la presa in b3 sul cambio in b3 seguirebbe probabilmente alfiere per f8 ed è un peccato e quindi riprendiamo in g7 ok il nero non ha più il suo fortalfiero in g7 al suo posto abbiamo direttamente il re c'è anche da dire che questo ha lasciato un po indietro nello sviluppo il nostro avversario il re è ancora al centro la casa b2 è molto debole qui bisogna trovare la collocazione migliore per questo alfiere non è facile perché ad esempio con f3 il bianco andrebbe a controllare tantissime case quella che mi viene più spontanea come casa è alfiere e6 in alcune varianti si minaccia direttamente la spinta in d5 addirittura anche adesso addirittura anche adesso apriamo il centro visto che il re è ancora al centro attiviamoci in questo modo da fare attenzione ad eventuali salti di cavalli con la donna in d5 ok qui ha riciclato in maniera buona il cavallo da c1 e2 g3 cambiamo cambiamo e adesso si preme su e4 e nel caso in cui il cavallo si spostasse l'alfiere può essere cambiato in d3 qui addirittura c'è direttamente donna d4 è difeso dal cavallo in c6 para lo scacco in caso di cambio in d4 da parte del bianco seguirebbe come sta accadendo cavallo per d4 i pezzi del nero paradossalmente sono più attivi premiamo sul pedone c2 adesso se il bianco mettesse una torre in c1 per difendere c2 poteva seguire alfiere per alfiere per cavallo scacco e mi sarei rifatto in c1 e invece giustamente il nostro avversario spinge in c4 e noi sviluppiamo le nostre torre adesso questa torre attacca l'alfiere d3 in difeso quindi se la mossa fosse al bian al nero in questo momento ci sarebbe o cavallo per d3 o cavallo f3 scacco e poi ci rifarremmo su d3 mi aspetto una torre in d1 che invece non c'è ora su cavallo per torre per e si difende l'alfiere ma su cavallo per b3 quell'alfiere è indifeso e si attacca pure la torre prendo 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 però la torre e la torre entra si cambia il pedone a3 per quello in a2 di fatto mi aspetto un torre per a3 ah però su torre per a3 potrebbe seguire torre per c4 è quello interessante torre per c4 questo è interessante non so se però giocarla subito o se prima cambiare l'alfiere sul cavallo e poi giocare torre c4 di sicuro torre c4 sa da giocare e io quasi quasi la giocherei dopo il cambio per quale motivo il pedone in e4 sarebbe isolato dopo il cambio e dopo la presa in c4 si attaccherebbe pure il cavallo in c4 invece così ci sono delle intermedie che possono essere fastidiose tipo cavallo f2 si attacca la torre che va in f2 però in realtà si potrebbe giocare si potrebbe giocare ma la posizione sarebbe più complessa il cavallo è un tricky piece un pezzo che tira trucchi e quindi giochiamocela così analizziamo questo finale di torri due torri per parte pedone in più per la key master il pedone in più e il pedone f due isole per il nero una è costituita da b7 l'altra da questa massa pedonale tre isole per il bianco una, due e tre ora partendo dal presupposto che lo scambio dei pedoni in qualche modo favorisce la difesa giochiamo una mossa come re f6 l'obiettivo è quello di andare in e6 controllare i b7 e poi con la torre attaccare uno di questi due pedoni nel mentre mantenere il pedone b7 qui l'idea è probabilmente quella di giocare torre b5 difeso dall'alfiere, dal pedone in realtà questa mi sembra una buona mossa questo pedone di fatto non può essere difeso se non con torre d4 a cui seguirebbe probabilmente e5 è vero che cadrebbe questo pedone però il nero nel mentre ne guadagnerebbe due uno e due e qui i pedoni di vantaggio sarebbero due anziché uno e anche se sullo stesso lato dovrebbe essere facilmente vinta dovrebbe perché ricordo sempre che una partita va avanti fino a quando non si abbandona, non si dà matto c'è ancora tempo eccetera eccetera allora qui possiamo andare sia qui che qui però se andiamo in e7 dopo re torre b6 torre per torre per scacco e non va bene invece bisogna far perdere un tempo al nostro avversario per attaccare il pedone debole b7 come gli togliamo quel tempo non dandogli la possibilità di darci scacco quindi momentaneamente il re si ritira nuovamente in v6 ha fatto il suo lavoro e adesso torna di nuovo dentro la sua umile dimora prossima mossa per the lucky master probabilmente è torre per e4 mi aspetto un... ah ok beh qui però c'è un tatticismo interessante il tatticismo è legato alla spinta ah no però se spingo prende prendo prende e probabilmente è patta e allora no allora no dobbiamo difendere in qualche modo il pedone e5 e il modo più semplice per farlo è re f6 interessante la manovra del re in cui vai in f6 poi lì poi in su e poi giù allora questo è soltanto per prendere tempo eh non allora qui dobbiamo evitare che il ne il bianco prenda dando scacco d'altro canto abbiamo visto come bisogna difendere quel pedone come si può fare tre minuti beh in realtà qui i pedoni sono già due adesso quindi beh avviciniamoci guadagniamo spazio qui l'idea è spingere o meglio di andare col re in g6 e poi spingere in f6 dipendendo questi due pedoni col pedone in f6 e avendo uno scudo uno scudo per il re nero eccolo qua lo scudo se la torre mangia la torre mangia ok qui adesso allora torre d5 torre d5 torre b5 b6 quello sarebbe interessante torre d5 torre d5 l'unico modo per difendere torre d5 seguirebbe d6 se prende prendo se prende casca quello sì questa mi sembra più forzante col fatto che il re in g6 anziché in g7 il bianco non ha la possibilità di guadagnare il pedone b7 dando scappo ora se prende di pedone casca la torre se prende di torre casca il pedone qui andiamo a riprendere in realtà c'era pure interessante lo scacco ma va bene diamo scacco ok ok due minuti contro quattro però abbiamo un vantaggio che ad occhio dovrebbe essere decisivo è da dire che il poco tempo a disposizione non aiuta d'altro canto questo pedone libero è una forza non ci fosse sarebbe tutto pari ma visto che c'è intanto tagliamo fuori dai pedoni sul lato di re il re bianco attiviamo il nostro re e qui creiamo qualche debolezza nello schieramento nemico su h per riprendiamo di torre anzi la muovo subito come pre move risparmiamo un po' di tempo ok tagliamo sulla terza il monarca bianco e adesso ci prepariamo a spingere questo pedone un minuto e cinquantasette ok avanziamo qui ci sono anche delle interessanti minacce di matto verso il monarca nemico allora se io spingo e lui mangia e io vengo in g3 attacco la torre poi spingo in e2 quello viene lì allora diamo scacco vediamo se il re si nasconde in h2 e in f2 ok e adesso è arrivato il momento buono per valorizzare il pedone libero sulla colonna e a costo di aver dato il pedone h qui mettiamoci un altro difensore al pedone e3 e controlliamo meglio anche la spinta di questo pedone in g2 che non si sa mai e adesso il piano è quello con il re di andare in f2 con lo scudo del pedone f4 qui ovviamente bisogna fare attenzione in caso di spinta sarebbe seguito subito lo scacco e si sarebbe perso il pedone e che è l'asso di briscola che ha in mano il nero e qui ok qui non diamo niente andiamo comunque a difendere il pedone f4 56 secondi per dalaki master in un finale di questo tipo dovrebbero essere più che sufficienti per portarsi a casa il punto attacchiamo e difendiamo attacchiamo la torre e difendiamo il pedone in caso di torre d8 si può promuovere e dopo lo scacco seguirebbe re f2 e la donna neopromossa sarebbe comunque difesa dal monarca mi aspetto per esperienza a breve l'abbandono del conduttore dei viaghi che dire soddisfatto della piega che ha preso l'apertura nonostante il rating di un certo spessore del nostro avversario d'altro canto i pezzi sono gli stessi per entrambi i giocatori quindi più che soffermarsi su quello che il livello di gioco del nostro avversario conviene utilizzare le nostre energie mentali per trovare alla scacchiera quelli che possono essere dei buoni seguiti in questo caso il seguito scelto è stato buono rapido sviluppo dei pezzi visto che il bianco attaccato sul lato di re si spinge il pedone A per attaccare sul lato di donna è considerato il fatto che non sarebbe stato opportuno arroccare sul lato di donna il bianco di fatto ha dovuto arroccare ma nel mentre ha dovuto perdere del tempo tempo che il nero ha impiegato per crearsi del controgioco difesa passiva a meno che non serva per crearsi di fatto una fortezza io sinceramente tendo ad evitarla preferisco sempre avere del controgioco quantomeno si creano delle posizioni che ci danno l'opportunità di attaccare l'avversario e ottenere del vantaggio anche dal punto di vista psicologico devo dire che non niente male nel mentre il nostro avversario non ha abbandonato ma ha perso partita per il tempo questo di fatto non cambia la valutazione della posizione finale raggiunta spero che la partita vi sia piaciuta se si mettete un like iscrivetevi al canale attivate la campanellina e godetevi questa splendida serata d'estate un saluto a tutti e alla prossima grazie a tutti